La città di Pesaro celebra e onora il giorno della memoria. Incidente questa mattina a Urbino un ferito estratto dalle lamiere. Ricci mette la parola fine su riceci, la discarica non si farà. Le parole di Bonolis non passano inosservate e polemica sulla sua conduzione di Pesaro 20-24. Basket la VL cade in casa con brindisi e per la salvezza si fa sempre più dura. Ben ritrovati su Rossini TV e buonasera. Benvenuti al nostro telegiornale. In questa edizione andiamo a parlare della giornata dedicata alle celebrazioni del giorno della memoria che si è tenuta proprio questa mattina al Teatro Sperimentale di Pesaro. Numerosa la presenza degli studenti delle scuole del territorio giunti a questo appuntamento istituito proprio per commemorare le vittime della Shoah. Il filo comune che ha segnato tutta la mattinata è stato quello di recuperare la cultura della pace, dell'uguaglianza e della libertà. Partiamo così. In un teatro sperimentale gremito, con grande rappresentanza di studenti delle scuole del territorio, il comune di Pesaro questa mattina ha omaggiato e celebrato la giornata della memoria. A salire sulle palco per primi sono stati rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il prefetto Emanuela Saveria Greco, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini, l'assessore alla crescita Camila Morge e la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Un unico filo comune in una giornata intensa di emozioni, quello di recuperare la cultura della pace, dell'uguaglianza e della libertà. Ogni anno proviamo a coinvolgere sempre più studenti. Sempre più studenti perché noi abbiamo bisogno di fare un lavoro profondo sulla memoria e sugli accadimenti più drammatici, disumani della storia dell'umanità. È uno sforzo quotidiano che dobbiamo fare, che vivi in particolar modo in queste giornate, ma è un dovere, è un dovere per chi come me rappresenta le istituzioni, è un dovere per la scuola affinché certe atrocità non capitino più. Questa giornata è il frutto di un grande lavoro che prosegue da anni e vede il protagonismo della rete degli istituti scolastici superiori, che anche quest'anno l'assessora Camilla Murgia ha coordinato nel lavoro che si svolge durante tutto l'anno e ne vede la restituzione oggi. Un lavoro di squadra che non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento corale di tante istituzioni del nostro territorio. Un ringraziamento davvero non scontato alla signora Prefetto per aver consentito che la celebrazione di questi momenti istituzionali avesse un valore concreto e non retorico. Gli appuntamenti dedicati alle zone della memoria sono poi proseguiti con la consegna delle medaglie d'onore della Prefettura di Pesaro Urbino a Silvio Alessandrini, Michele Gallizioli, Settimio Guidi e Luigi Quarti, ritirati dai familiari, per poi passare ad un intenso momento di musica e parole organizzati insieme alle scuole della città. È una cosa che non so descrivere perché averla dopo tanti anni, tanti anni, sarebbe stato bello che lui fosse presente, però siamo riusciti a trovare il verso per avere questa medaglia e quindi grazie lo stesso. Il tempo ne è passato perché abbiamo cominciato a riguardare, con il fatto del computer, te vai a vedere dentro queste cose, cercare di scoprirle perché prima eri talmente preso da tutti i racconti suoi e quindi via, no? E poi, Vandoli? E poi sono un po' subentrata io perché, infatti prima volevo dirlo, perché è stata una promessa che ho fatto a mio padre, perché io dalla famiglia di mio padre ho mio padre che non c'è più e mio zio e quindi questa promessa è stata mantenuta. Mi ci è voluto quasi due anni, un annetto e mezzo tutto, sia per avere anche degli altri fogli dove testimoniassero ancora di più tutto ciò che era avvenuto, il suo passaggio, foglio matricolare e tutto quanto. Sono dovuta andare all'archivio di Stato che ringrazio per questo e mi sono proprio messa in contatto con il Ministero a Roma e da lì dopo, ecco, circa un anno e mezzo, la risposta di questa giornata, di questa cerimonia. Il nostro padre ci raccontava, ma per quanto riguarda la mia esperienza, essendo molto piccolo, non gli ho dato mai tanto peso, fino a che non abbiamo scavato con la documentazione che abbiamo trovato in questo anno prima della medaglia e lì ho capito veramente quello che hanno passato. L'emozione è grande, anche perché questo riconoscimento so che non c'è da tanti anni e finalmente appunto si sono decisi a dare un riconoscimento a queste persone che hanno sofferto particolarmente nei lager. Mio padre ha anche fatto la ritirata di Russia, per cui ha cominciato con la guerra d'Africa e per dieci anni aveva vent'anni ed è tornato che ne aveva trentuno. Mio padre raccontava veramente poco della guerra, era sempre molto emozionato quando lo raccontava, sì, per cui le testimonianze non sono tante. Quello che ricordo è che era rimasto sepolto, era scoppiata una granata, per cui è rimasto sottoterra e i commilitoni sono riusciti ad estrarlo vivo. Ed ora cambiamo argomento, andiamo alla cronaca. Grave incidente frontale nella mattinata sulla strada statale 73 Bis, in località le cerque di Urbino, ovvero la vecchia strada che unisce Urbino a Fermignano, usata ora come alternativa per la chiusura della galleria di Cagulino. Erano circa le nove quando un mezzo pesante e un'autovettura sono entrati in collisione. L'incidente è un frontale fra una Fiat Panda e un camion del gruppo Frati. Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria, che è rimasto incastrato nell'abitacolo. Liberato dai Vigili del Fuoco è stato trasportato all'ospedale di Urbino, ha fratture agli arti inferiori e un trauma toracico. Durante il soccorso non ha mai perso coscienza ed è sempre stato lucido. La viabilità lungo la statale 73 Bis è stata temporaneamente interrotta fino alla rimozione dei mezzi coinvolti. Ed ora cambiamo argomento. Il sindaco Matteo Ricci è tornato quest'oggi a parlare e a incalzare sulla vicenda legata alla discarica di riceci. Il primo cittadino di Pesaro ha ribadito fortemente che la discarica non verrà fatta come gli stesso ha già sottolineato in tutte le sedi istituzionali e aziendali. Il primo motivo riguarda il fatto che non ci sono le distanze e poi perché sia il Comune che le altre istituzioni sono ora contrarie. Ricci ha imputato alla Regione Marche il fatto di scaricare ad altri le proprie responsabilità, ribadendo però che ora la provincia deve chiudere questa pratica nella maniera più veloce. In conclusione il sindaco ha sottolineato che negli scorsi mesi ha avuto un duro scontro amministrativo con i versi tc di ERA sia in Assemblea che nel CDA. In quell'incontro è stato richiesto un piano B per i rifiuti industriali nell'interesse del territorio e dell'azienda e ora è Marche Multiservizi che deve trovarlo nel nuovo piano dei rifiuti che la Regione dovrà fare. E non sono passate inosservate alcune parole e battute che Paolo Bonolis ha espresso durante la cerimonia dell'inaugurazione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. In particolar modo ciò che ha fatto discutere sono alcuni cliché usati durante la giornata sia nello scambio di battute con la direttrice dell'orchestra Olimpia Francesca Perrotta sia nella ripetuta sottolineatura sull'estetica delle orchestrali. Vediamo. La signora Perrotta adesso ci fa una presentazione amplia di questa meravigliosa orchestra Olimpia. Può fare direttrice. Direttrice, direttrice. La signora direttrice, sempre Perrotta resta però, ci presenta l'orchestra Olimpia. Va bene. Prego. Un tema di attualità in questi giorni è quello che riguarda la conduzione di Paolo Bonolis per la cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura e diciamo delle sue gag che ha fatto con la direttrice dell'orchestra Olimpia Francesca Perrotta. Alcune sue, diciamo, affermazioni non sono passate inosservate in questi giorni e se ne sta parlando. Sì, devo dire che finire alla ribalta della cronaca nazionale non tanto perché siamo Capitale Italiana della Cultura ma proprio per le battute, per i cliché, per, diciamo, qualche parola di troppo che Paolo Bonolis ha così elargito durante la sua conduzione sul palco della Brite Figo Arena non fa ben sperare come anno italiano della cultura. Devo dire, io ero tra i presenti per cui anche tutte le polemiche che ci sono in questo momento sono profondamente fondate perché davvero si è preso un po' troppo libertà nei confronti della direttrice d'orchestra ma anche nei confronti di tutte le orchestrali che erano lì per un motivo ben preciso. Sicuramente faceva piacere vedere delle belle donne ma erano lì per il loro ruolo perché professioniste, perché musiciste con decenni di studi alle spalle e devo dire che ha lasciato tutti un po' perplessi questo atteggiamento da parte del conduttore anche quasi a voler screditare la professionalità che c'era dietro quelle donne, dietro quei volti dietro delle persone che erano lì per dare un contributo culturale. Io non sono mai stata incline anche alle battaglie linguistiche per declinare al femminile un termine piuttosto che un altro ma qui non si tratta di piccole differenze linguistiche qui si tratta di differenze culturali, di capire da che parte vogliamo andare. Nel 2024 io credo che Pesaro abbia dato anche prova di sé pensate abbiamo il prefetto donna, il capo del tribunale è una donna, il procuratore capo del tribunale è una donna, la presidente degli industriali è una donna, ci hanno comunicato che a partire dal primo di febbraio anche il questore sarà donna. Ecco in una città che è già avanti con il cambiamento rimanere ancorati ancora a questi cliché davvero strumentali e di basso livello non fa bene a nessuno. Io credo che si sia fatta una scelta, scegliere di avere Paolo Bonolis su quel palco nel giorno più importante per Pesaro come capitale italiana della cultura dinnanzi al presidente della Repubblica sia stata una scelta sbagliata, potevamo farne un'altra, potevamo scegliere un conduttore senz'altro in grado di veicolare quella mattinata con i tanti contributi che ci sono stati ma di farlo senza scadere in queste piccole bassezze. Si è privilegiato un po' la popolarità del conduttore che sicuramente ha giocato un ruolo importante, forse è venuta meno un'attenzione da un punto di vista proprio culturale al ruolo della donna negli anni in cui viviamo noi. E questa è l'orchestra? Ah bello, io non conosco queste cose, dico complessi. Tutte molto serie, tranne la signorina lì, molto sexy per là in fondo. Ah sì? Sì, tutta... yeah! Che suona lei? È una percussionista. È una percussionista. Ci percuote l'anima. Oggi suona il triangolo. Eh? Oggi suona il triangolo. Oggi suona il triangolo. Però le percussioni... Ah, fai anche Renato Zero. Che meraviglia! Bene, bene. Ci siamo quasi. E il triangolo no, non l'avevo considerato. E oggi 29 gennaio è il primo giorno di chiusura del bar Diana situato nella zona della stazione ferroviaria di Pesaro dopo la decisione presa dal questore Raffaele Clemente a causa dei troppi interventi effettuati dalla polizia e dai numerosi moniti sempre inascoltati. Nelle ultime settimane infatti sono state diverse le chiamate alle forze dell'ordine per sedare liti, per far allontanare persone moleste ed episodi che hanno coinvolto ragazzi ubriachi a cui sarebbero stati somministrati altri alcolici nonostante le loro condizioni. Il fatto più grave è quello che risale a poche settimane fa quando un gambiano trentenne è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi dopo aver litigato con un connazionale e per averlo colpito al volto con un coccio, sfregiandogli al viso e facendogli riportare una profonda lesione. Troppi episodi che hanno quindi portato a questa decisione, un provvedimento che durerà una settimana esatta, ovvero fino a domenica 4 febbraio, ultimo giorno in cui il locale resterà chiuso. I vandali imbrattatori sono tornati in azione nel centro storico di Pesaro, questa volta il bersaglio scelto è stato piazzale 1 maggio e nello specifico il principale edificio che vi sorge, ovvero la sede della Camera di Commercio. Un palazzo di rilievo storico ed artistico in quanto resta uno dei pochi esempi perfettamente conservati dell'architettura razionalista del ventennio. Nello specifico non è stato imbrattato l'ingresso principale che dà soccorso 11 settembre, forse per paura di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ma ad essere preso di mira è stato appunto la parte distabile che si affaccia su piazzale 1 maggio, dove la struttura ha il suo ingresso secondario. Come si può vedere dalle immagini l'imbrattamento non è stato di piccole dimensioni, ma ha riguardato vari punti dell'edificio. Per rimettere a nuovo e tinteggiare il palazzo sarà proprio l'ente camerale a proprie spese a far ripulire questi atti vandalici. E come da tradizione nell'occasione della festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, ieri mattina a Piazza del Popolo si è gremita di persone che hanno partecipato alla 33esima edizione della Benedizione degli Animali. La manifestazione organizzata dalle giacche verdi è da sempre un'occasione per i tanti amanti presenti per vedere da vicino creature non sempre facili da incontrare. Quest'anno come evento ci sarà la Polizia di Stato che viene da Firenze, è un reparto a cavallo, sono due cavalieri, due agenti della polizia con due bellissimi cavalli murgesi di colore morello bellissimi e poi ci sono le giacche verdi che sfileranno dietro, poi tutti quelli che sono stati invitati e saremo quasi un centinaio di cavalli. E poi tutta la gente che è amante del proprio animale è l'occasione di stare assieme e festeggiarlo perché li vogliamo veramente bene questi animali, veramente fanno mai parte della nostra famiglia, dal gatto agli animali più grandi. E per l'occasione l'associazione è promotore di questa cosa assieme con i fratti minori, i fratti minori di Pesaro che celebrano questa funzione e per l'occasione in questa giornata avremo degli ospiti che vengono da Vicenza, da Ferrara, dalla Toscana e dall'Abruzzo, senza poi contare tutto quello che fa l'enturasi della nostra provincia di Pesaro Rubino. Noi siamo francescani, voi sapete che San Francesco amava tutti, tutte le creature, sia gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci che andava a predicare e noi abbiamo questo onore di stare vicino a tutte le creature del mondo, non soltanto nella predica ma anche nella vicinanza della vita, nell'essere, nel vivere, nella semplicità e nell'umiltà. E questo è un piacere per noi come me, per me come francescano e per tutti noi francescani stare vicino alle creature di Dio che San Francesco chiamava fratelli e sorelle. Voglio ringraziare le giacche verdi che ricordo che sono un corpo di riprosizione civile regionale a cavallo che intervengono e che sono vicini alle varie amministrazioni nelle varie situazioni. però il mio intervento si è focalizzato sul fatto che il ruolo degli animali nel corso degli ultimi decenni è cambiato, gli animali nel corso del Novecento erano principalmente utilizzati per il lavoro, delle famiglie, del mondo agricolo, mentre oggi le famiglie sono cambiate, molte persone sono sole e gli animali diventano veramente la compagnia di molti. Quindi questo ruolo di stare vicino alle persone, alle persone che hanno bisogno, ovviamente anche delle famiglie che non hanno bisogno, ma soprattutto con la pet therapy oggi gli animali sono sempre più utilizzati per stare vicino alle persone con facilità o persone disabili e quindi hanno svolto, stanno svolgendo un ruolo diverso ma comunque sempre importante nella vita di tutti noi. Come passione ho i miei asini che andiamo a fare camminate, trekking, tutto a livello personale, non come attività vera e propria. Poi abbiamo qualche compagno tipo la Susi oppure la Galina, la Capretta che sta girando qui in giro e niente, come la passione piuttosto che un altro, conosciuto l'asino dopo il cavallo non c'è stato proprio più verso da fare, hanno una marcia in più. Quando poi ci sono queste manifestazioni per far vedere un po' anche ai bambini, un po' che non è più così facile vedere questi animali in giro e comunque incominciano a esserci. Cerchiamo di venire per poter essere un po' presenti e passare qualche ora insieme a tutti quanti. Emozioni, divertimento e spensieratezza è partita con il botto la prima domenica di sfilate del Carnevale di Fano, baciata da più di 10.000 presenze che non si sono volute e perdere questo primo appuntamento superando addirittura i numeri della prima sfilata dello scorso anno. Una giornata piena e intensa che è partita dal mattino con il Carnevale dei Bambini, dove migliaia di piccoli studenti hanno sfilato lungo Viale Gramsci fino a Piazza 20 Settembre, dove Argos, Associazione Forze di Polizia, ha tenuto una lezione di educazione civica, illustrando quelli che sono i principi di legalità, mentre nella zona Pincio giochi e dolciumi per i più piccoli. Un vero antipasto per arrivare a quello che è stato il pezzo forte della giornata, con la sfilata dei carri allegorici, tutti legati al tema di questa edizione, ovvero in viaggio col Voulon, fuori dalle righe e dagli spazi. Ad aprire la sfilata è stata l'Associazione Albarosa, a supporto di donne vittime di violenza. Tanta l'attesa poi per i nuovi carri di quest'anno, a partire dai tre nuovi carri di seconda categoria, da quello dedicato alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, chiamatemi direttore di Paolo Furlani, a Jack in the Box, ovvero pupazzo a Molla, opera dedicata alle maschere italiane di Valeria Guerra, fino a Tedeghe il Brudet 2, la vendetta dedicato al brudetto e alla moretta di Matteo Angherà. Dopo il successo ottenuto, il film ancora volano le farfalle basato sulla vita della pesarese Giorgia Righi, torna al cinema. La serata evento sarà al Multisala Solaris di Pesaro questa sera, lunedì 29 gennaio alle ore 21. Per l'occasione sarà presente il cast al completo, nel ruolo di coprotagonista l'attore pesarese Massimo Fradelloni, l'attrice Beatrice Mariani, che interpreta Giorgia, e al suo fianco l'attrice ascolana Giorgia Fiori, che ricopre il ruolo della sorella di Giorgia. Il film sarà in programma al Multisala Solaris fino al 4 febbraio. Domani in sera, invece, al cinema Loreto di Pesaro verrà proiettato in prima visione La Grande Pica, il docufilm prodotto dal sindacato CGL Pesaro Urbino, SP Pesaro Urbino, che rende omaggio ad un'azienda storica dell'industria pesarese. Il documentario racconta di una storia durata oltre 70 anni la Fornace Pica, che nel dopoguerra ha risollevato dalla fame migliaia di famiglie, portandole ad una condizione di benessere e i cui benefici sono ricaduti sull'intera provincia. Il progetto è stato finanziato da CGL Pesaro e dal Ministero dei Beni Culturali e gode del patrocinio di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. L'ingresso alla proiezione delle anteprima sarà interamente gratuito. Venerdì 2 febbraio i comici del San Costanzo Show tornano al cinema Politeama di Fano, portando in scena gli classici odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21.15 e vede la regia di Paola Galassi, mette in scena il gioco meta teatrale di una compagnia alquanto scalcinata che si arrabatta come può al cospetto diversi archetipi e vicende eroiche. Un gioco di rimandi e citazione in puro stile San Costanzo Show con pezzi corali, videoproiezioni, musiche, monologhi, canti e coreografie. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su live ticket online e punti vendita oppure direttamente al botteghino del teatro, la sera stessa dello spettacolo. Tutte le informazioni su www.sancostanzoshow.com. Ed ora cambiamo argomento, nuove attività imprenditoriali hanno scelto proprio di nascere a Pesaro nel nostro territorio, il caso di Aquaself che sabato mattina ha inaugurato la sua nuova sede in via Rezzo 8 in zona Tombaccia, non solo però distribuzione di acqua come potete ascoltare in queste prossime interviste e poi chiaramente vedrete lo speciale su Rossini TV questo mercoledì, quindi mercoledì 31 gennaio alle ore 21.40. Cari telespettatori di Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in zona Tombaccia in via Arezzo 8 e siamo qui con le telecamere di Rossini TV per l'inaugurazione di Aquaself. Aquaself è distributore di acque minerali aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. avremo modo quindi di acquistare non solo acqua ma anche altri prodotti, un nuovo modo diciamo innovativo di fare la spesa, i nostri acquisti evitando magari le file al supermercato, non solo un modo innovativo ma anche soprattutto veloce ed economico. In questo contesto abbiamo Aquaself 24 che è il nostro marchio registrato dove abbiamo più di 20 punti vendita con questo logo qua, più altri con altri loghi in giro per l'Italia, abbiamo più di 40 punti vendita in tutta Italia, in circa 8-9 regioni d'Italia. E qui oggi finalmente siamo a Pesaro che sono dai diversi anni che cerchiamo un locale e finalmente abbiamo trovato un locale insieme ad un nostro cliente. Qui adesso oggi vediamo l'inaugurazione in Viarezzo 8, abbiamo un macchinario di ultima generazione dove ci stanno in questa macchina, sono 35 corsie dove ci stanno circa 1200 pacchi come alloggio e abbiamo diversi loghi in questo caso, dai più blasonati che sono Sant'Anna, Levissima, Eva, Lete, Uliveto e dai abbiamo una bella scelta. Per quanto riguarda la macchina la comodità per il cliente finale è quella di non andare più ai supermercati con il carrello, fare la spesa e fare le varie file in cassa e quindi in questo macchinario la comodità è di arrivare direttamente con l'automobile, sostare, aprire il baule della propria macchina, selezionare i vari pacchi, le varie tipologie, le varie quantità, caricare nel baule, quindi attendere l'erogazione, caricare nel baule e andare via in 5 minuti e fare quello che nei supermercati diciamo ci impieghiamo quei 30 minuti buoni. Quindi è un metodo veloce, è un metodo nuovo che sta piacendo molto e dai speriamo di continuare così. In questo caso però abbiamo anche capsule di caffè e pellet in scatole quindi ci stiamo spostando anche su altri mercati. Prossimamente usciremo con una macchina per vendere diciamo esclusivamente vino, esclusivamente pellet o esclusivamente comunque capsule di caffè o beverage in generale. Quindi dai, ci stiamo evolvendo, ci stiamo evolvendo e non stiamo mai fermi. E come ogni lunedì facciamo il punto della situazione per quanto riguarda lo sport locale. Serata Mara ieri per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha perso in casa la delicata sfida salvezza contro Brindisi. Va KO anche la Megabox in trasferta a Chieri, bene invece l'Ital Service Calcio A5 mentre ottiene un buon pareggio la Vis Pesaro. Vediamo tutto in questo prossimo servizio. VL così non va. Nel delicato mezzo salvezza contro la Eppi Casabrindisi la Carpegna Prosciutto crolla davanti alle proprie pubbliche ed incassa la sesta sconfitta consecutiva. La formazione pugliese vinse di autorità la sfida contro i Biancorossi conducendo la gara praticamente dall'inizio alla fine senza mai mettere realmente in discussioni il risultato finale. Dopo un primo tempo di grande difficoltà soprattutto difensiva per la VL dove in 20 minuti la squadra di Sacchette ha concesso bene 53 punti a quella di Sacota nella ripresa la Carpegna Prosciutto parte meglio con un atteggiamento diverso. VL che dalle meno 16 riesce anche a rientrare fino alle meno 4 ma ecco che la luce in attacco si spegne di nuovo. Negli ultimi attimi di partita si gioca solamente per la differenza Canestri con Eppesaro che vuole difendere i le più 13 dell'andata. Bartley a meno di un minuto dalla fine segna i le più 14 ma poi due triple di Bluiet e Ford stabiliscono il punteggio finale sulle 78 ad 86. In casa pesarese la partita ha visto anche l'esordio del neo arrivato McDuffie. L'ala ex Napoli che ha messo a referto 13 punti a fine gara parte bene ma poi anche lui soffre l'appannaggio generale della squadra nei momenti chiave della partita. Nelle calcio la vispesero sul campo della Virtus Entella guanti il suo nonno risultato utile consecutivo. La squadra di banchieri è andata sotto nel primo tempo nel suo momento migliore della partita, beffata da una conclusione di Tomaselli dai 22 metri. Costantemente alla ricerca delle pari, la visse trova il legale a tre minuti dalle novantesimo con Carlson che segni il suo quinto gol stagionale e decreta l'1-1 finale. Nelle calcio 5 e terza vittoria in fila dell'Ital Service che tra campionate e Coppa non si vuole più fermare. Nella sfida interna di venerdì sera i biancorossi hanno abbattuto la cama e Dossonne Treviso con il punteggio di 5-2. Pesaresi caprono subito la partita con due gol nei primi 5 minuti firmati dalle neo arrivato Caruso e Murillo Schioche. Il 3-0 porta la firma di Moabze ma la cama e Dossonne accorcia prima dell'intervallo con Viera. Ospiti che ad inizio secondo tempo si rifanno sotto con la rete delle 2-3 di Saton prima della doppietta di capitano Tony Dandelle che chiude definitivamente i giochi. Sorride anche l'Ital Service di sponda cestistica. Il Loreto Basque dopo il passo falso della scorsa settimana a Senigallia ha ritrovato subito il sorriso e due punti nella sfida contro Civitanova. Alle pala Megabox davanti ai propri tifosi la squadra di Cocio e Foglietti si è imposta con il punteggio di 80-54 in una partita sempre tenuta sotto controllo. Nello stesso girone sorride anche il Lebramante Basket che a teramo vince in trasferta 71-67 dopo un finale punto a punto negli ultimi 5 minuti di gioco. 3 su 3 per le squadre pesaresi della B Interregionale con il Episaurum che in casa ha trionfato per 70-68 contro la Stamura Ancona. Nella palavolo nulla da fare per la Megabox Vallefoglia che in trasferta sul campo di Chieri viene sconfitta con un netto punteggio di 3-7 a 0. Le padroni di casa non hanno mai dato chance alle Tigri conducendo il match dall'inizio alla fine. Netti anche i parcelli dei sette con Chieri che ha vinto il primo 25-20 per poi chiudere 25-19 e 25-17 nel terzo. Nel rugby la Fiorini Pesaro torna a mani vuote dalle campo padovano dove nella prima giornata delle girone di ritorno i padroni di casa si sono imposti per 45-21. I Kiwi giallorossi tornano a mani vuote dalla trasferta Veneta alle termine di un match dominato dalla nebbia. Il telegiornale finisce qui ma carissimi amici restate con noi su Rossini TV perché questa sera alle 21.20 c'è una nuova puntata di CECAP Obiettivo Salute. Questa sera parleremo proprio del ruolo del medico sportivo, un ruolo veramente molto molto importante per tutti coloro che si approcciano all'attività fisica e lo faremo con Vittorio Gemellaro, il dottor Vittorio Gemellaro che è medico sportivo, direttore sanitario di Fisioradi Medical Center. E poi subito dopo alle 21.40 vi trasmettiamo la diretta che avete seguito oggi sui canali social del Comune di Pesaro sul giorno della memoria. Quindi l'evento integrale lo potrete vedere alle 21.40 con immagini realizzate anche dalla scuola Gramsci, tanti contributi delle scuole di Pesaro e non solo la consegna delle medaglie, anche i saluti istituzionali. E poi domani vi aspetto puntuali alle 7.20 con il nostro appuntamento della mattina con la lettura dei titoli dei quotidiani locali e buongiorno Rossini. E vi ricordo che domani torna una nuova puntata di Amministrando e allora attenzione perché domani le ospite saranno l'assessore alla gentilezza e alla crescita del Comune di Pesaro, Camilla Murgia, rappresentante del Partito Democratico, e Lisetta Sperindei che invece fa parte del gruppo misto di minoranza a Pesaro. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.